Siamo qui a Vieste all'arrivo della settima tappa del Giro E, siamo partiti questa mattina dal splendido porto di Manfredonia e abbiamo attraversato dei paesaggi stupendi prima di arrivare all'arrivo di Vieste. Una tappa impegnativa che però è stata affrontata molto bene da tutti i concorrenti, tra l'altro oggi c'erano molti ciclisti che sapevano andare in bicicletta per cui siamo arrivati anche leggermente in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Sicuramente è un'ottima tappa anche caratterizzata da una splendida giornata di sole. Grazie a tutti!